Torna la fioritura di Castellucce con essa la riapertura parziale della strada 136 di Pianperduto tra Castel Sant'Angelo sul Nere e Norcia. Come accadde l'anno scorso, la strada sarà aperta dalle 8 alle 21 nei fine settimana da fine giugno a fine agosto e per l'intera settimana di Ferragoste nelle domeniche da metà giugno a fine ottobre, con circolazione a senso unico alternato. I lavori di ripristino dopo il terremoto del 2016 avanzano, fa sapere l'ANAS che sta progettando e realizzando i lavori come soggetto attuatore della protezione civile. Le scosse, fa sapere l'ANAS, hanno causato profondi danni compromettendo la stabilità della carreggiata per un'estensione di oltre 9 chilometri e causando l'instabilità geologica dei versanti a monte della strada. I lavori complessivi di ripristino riguardano nel dettaglio 15 interventi di consolidamento del corpo stradale, stabilizzazione dei versanti e opere di protezione per un valore complessivo che supera i 14 milioni di euro. Nell'ambito delle operazioni è in corso la realizzazione di oltre 800 pali interrati di cemento armato che arrivano alla profondità di 12 metri sia su roccia che su terra. Le perforazioni richiedono un tempo variabile da 2 a 4 ore ogni foro a seconda del materiale, fa sapere l'ANAS che stima la fine dei vari interventi tra l'autunno di quest'anno e gennaio 2020.